Musica Benvenuti domani e venerdì 31 agosto la Chiesa Cattolica fa memoria di San Raimondo è in arrivo poppea una perturbazione un po' più generosa di Beatrice con piogge al centro nord specialmente sulla Toscana con qualche pioggerellina anche sul Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania forti piogge da prima su Liguria, Lombardia, Emilia poi sulla Toscana verso Lungria e Lazio fino al Veneto un temporale anche a Roma e verso sera a Napoli giù le temperature anche di 10-12 gradi al nord e 6 gradi al centro di più sull'Umbria con l'arrivo dei temporali maestrale in Sardegna con piovaschi sul Nurese e la sera sul Sassarese La pressione atmosferica è prevista in diminuzione per la formazione sul mar Tirreno di una circolazione depressionale che causerà un cambiamento del tempo tra il pomeriggio e la sera il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità tra il pomeriggio e la sera arriveranno nubi più estese che causeranno qualche pioggia in serata temperature stazionali e venti deboli di direzione variabile con tendenza a rinforzare da sud-ovest mare poco mosso Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.